C'è un futuro di pagheria, vieni con noi, uscirai la magia della nostra istituzione, e ha una grande tradizione, una tocca di entità culturale, ci guida per l'impegno, civile e sociale, ci guida, l'impegno, civile e sociale, ci guida per l'impegno, civile e sociale, con figli, qui puoi crescere e puoi sognare, qui conosce, si ci fa integrare. C'è un futuro di pagheria, vieni con noi, uscirai la magia della nostra istituzione, C'è un futuro di pagheria, vieni con noi, uscirai la magia della nostra istituzione, C'è un futuro di pagheria, vieni con noi, uscirai la magia della nostra istituzione, qui puoi crescere e puoi sognare, qui conosce, si ci fa integrare.